Tra Scalfari e Spinelli da che parte stai tu? Sto senza esitazione dalla parte di Scalfari ma non condivido assolutamente quella battuta che le ha fatto sul padre che trovo... ha ragione nel merito ma nelle forme io non l'avrei fatto ha scritto che la Spinelli è dispiaciuto e dice ma tu impara da tuo padre ma insomma queste cose qua non si dicono, non si offendono le persone, Barbara Spinelli è una fine osservatrice, una persona accolta e non è certa... Però ha torto nel merito? Sì, cioè si carica su Napolitano un eccesso di colpo, oddio lui si è mosso in una maniera molto fuori dalla tradizione, un esempio, cioè non è la prima volta in cui... ci siamo trovati in Italia in un gorgo istituzionale, ci troviamo già due volte, una volta con Cossiga, cioè il gorgo istituzionale, dicesi in gorgo istituzionale quando scadono ad un tempo il Presidente della Repubblica, le Camere, si vota e quindi c'è una specie di pasticcio perché scavano in sé. Le due volte precedenti i Presidenti della Repubblica hanno fatto fare le elezioni, hanno aspettato che si conoscesse il risultato, che fossero eletti i Presidenti della due Camere e si sono dimessi in modo che le Camere liberamente e il nuovo Presidente guidasse la nuova fase politica. e il Napolitano invece, come voi sapete, non ha fatto così. Ma non solo non ha fatto così, ha dato un incarico a Bersani, un incarico un po' stravagante perché era un incarico trattenuto, non un incarico pieno. Poi quando si è capito che Bersani non andava da nessuna parte, ha incaricato i quindici saggi di prendere tempo, come ha raccontato Onida in quella conversazione rubata al telefono. Ora, strana, no? Cioè è una cosa che non era mai accaduta, nessuno... Al di là della riga, insomma, ecco. Però poi alla fine tradire... Ma no, napoletano, anzi parlando di napoletano mi alzo in piedi, va bene. Detto questo, però nominare cinque senatori a vita, tutti di una parte politica, insomma, strano.